buonasera sono luigio naraku se preferite bentorni su don zon battle versione jump con l'analisi dell'esa di un altro super vegeta ovvero la gl esa molto interessante che può essere utilizzata in più modi non proprio comodissimo ma comunque che presenta potenzialità andiamo a vederlo con 10.596 hp ad esa 9552 atk e 7263 di difesa a esa base quindi buon aumento leader lasciam perdere gl str fisici 90 per cento non lo usiamo come leader può silare nella special cosa che lo rende molto buono in battlefield e in determinati eventi in cui il seal funziona passiva attacco e difesa 150 per cento ok 100 per cento attacco e difesa al lancio della special se gli hp sono inferiori al 50 per cento lanciate un critico garantito ottimo questo fa già capire con pg che va giocato secondo terzo vi dico già con pg giocato off turn quindi terzo ma è un ottimo off turn additional costante per cento di essere una special quindi possibilità di due special ceiling e aumento d'attacco per nove turni peccato avere perfetto un aumento della difesa per nove turni avrebbe reso il tutto molto più interessante damage reduction 30 per cento buono damage reduction che arriva al 50 per cento se avete all'inizio turno 7 per cento meno di hp buono damage reduction che arriva al 70 per cento col 50 per cento o meno di hp inizio turno perfetto damage reduction che arriva al 90 per cento se avete il 30 per cento meno di hp inizio turno e quindi un pg difensivo il che vi fa capire perché ho detto di giocare a quel punto ma ma prima di andare a finire di analizzare questa parte di damage reduction leggiamo l'ultima parte di passiva ovvero un chie 25 per cento stas agli alleati e due chie 25 per cento stas agli agl str e fisici e poi riduce la rigenerazione dell'evento di selle allora allora perché qua è molto interessante principale difetto a oggi non potenzi tech che di nuove jeta peccato peccato positivo non potenza soli supero solo gli extreme quindi diventa molto interessante giocarlo in diverse composition è un buffer 50 per cento e tre chi molto buono e soprattutto molto buono il fatto che può essere un buffer 50 per cento critico garantito critico garantito il quale arriva il quale arriva fino al 90 per cento di damage reduction oh questo è interessante un buffer sub di sub damage dealer sub dps con 90 per cento di damage reduction di sealer aggiungiamo anche sealer perché non fa schifo ricordarselo giocato terzo ai suoi pro e suoi contro il principale contro è che giocato terzo non potete realisticamente gestire più di tanto i vostri hp non potete sapere con precisione a quanto arriva il damage reduction quando entra perché entrava molto in tre turni e altro d'altra parte in ottiche team non completi è molto interessante perché vi potete fare delle giocate interessanti con ghost usher oppure in se il saga con gli android tech c'ha diverse possibilità di combo molto belline in cui avete una terza posizione 90 per cento di damage reduction incazzata nera pronta ad andare con un 300 per cento scusate un 400 per cento di difesa aumentata e silare il nemico è un pg che ha tanto potenziale è naturale non parliamo di un esa che va a salvare un pg rendendo top tier non è l'esa che vi dice ah guardatemi ora sono il pg che serviva questo o quell'altro team ma è l'esa che probabilmente ad alcuni di voi che non hanno chissà quale account non hanno chissà quale possibilità va a dire ehi adesso hai un buffer 50 per cento con 90 per cento possibile di damage reduction e questo ragazzi fidatevi fidatevi poi e lo saprete meglio di me che ho un account a cui manca a oggi un dock and fest e nessun lr quindi ho un account end game benché non sia il migliore di tutti però è un account bello là in cui posso dire che più o meno qualsiasi team voglio fare lo posso fare quasi mi fa far capire che però cavolo cioè è un pg che può aiutarci e non è male sapere che sono usciti i pg sim quindi come vedete è un'analisi molto rapida perché il pg non c'è tanto da dire ma ha tanto piccoli potenziali man mano che l'account non è completo quindi ditemi cosa ne pensate se l'avete provato come al solito potete vedere qua uno showcase in cui lo vado a utilizzare insieme all'esa del vegeta più grande noi ci vediamo al prossimo video buona serata buona serata